città scuola cortile della scuola fattoria mercato stazione fermata dell'autobus aeroporto spiaggia magazzino zoo parco parco tempio strada strada incrocio incrocio ferrovia ponte angolo 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 pasaggio peronale passaggio peronale scala scala torre biblioteca 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 chiesa chiesa museo 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 teatro teatro ristorante 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 stazione di policia stazione di policia caserma dei pompieri caserma dei pompieri ufficio postale ufficio postale ospedale 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 casa 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 panetteria panetteria banca 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 libreria libreria farmacia 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 lavanderia 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 bicicletta 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 motociclo motociclo auto auto taxi 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 auto de la policia auto ambulanza ambulanza camion dei pompieri camion dei pompieri camion dei pompieri autobus autobus treno treno furgone 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 camion 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 aereo 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 helicottero helicottero barca barca jump yacht 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 visite via